Un paese nel quale si passa l'estate ad andare appresso a un Pinocchio che si chiama Antonio Tagliani che ci racconta che vuole fare lo Iuscole e poi vota contro lo Iuscore. E consentitemi, qualche responsabilità i media ce l'hanno ma anche chi dal punto di vista politico gli è andato dietro. Perché secondo lei l'ha fatto? Tagliani. Allora, ve lo chiedendo prima, la rivoluzione liberale di Berlusconi è finita nel 1996, cioè è durata da metà del 94 fino al 96. Ci ha creduto qualcuno alla rivoluzione liberale, siamo andati persino a vederla, ma sono passati 96, non lo so, 30 anni sono passati. Adesso c'è un tentativo di riposizionamento, loro possono perseguirlo legittimamente, in modo un po' paraculo dal mio punto di vista, dopodiché... Grazie. Grazie.